Abbiamo con noi il presidente dei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato, Francesco Montini. Signor Presidente, gli atleti delle Fiamme Oro sono l'orgoglio degli sportivi italiani e in particolare i ragazzi che hanno vinto le medaglie alle Olimpiadi. Che effetto fa avere tra i propri atleti degli atleti di questo livello? Certamente, intanto se loro sono un orgoglio per l'Italia, per me è un orgoglio essere il presidente di un gruppo sportivo così forte e che tanto dà allo sport italiano. Diciamo che loro diffondono dei principi importanti come quelli della legalità, come quelli delle altà nello spolto, oltre a essere grandissimi campioni. Queste Olimpiadi per noi sono state eccezionali, direi, perché quello che ha fatto la scherma dove abbiamo preso due medaglie d'oro a squadra, una individuale e una di bronzo, sempre medaglie d'oro. Poi quello che ha fatto Jessica Rossi, campione del mondo, solo a 17 anni, a 20 anni vince un'Olimpiadi, record del mondo e record olimpico. A 20 anni ha già vinto tutto, di più non può fare. Martina Grimaldi che ha portato la prima medaglia nel Nuoto Gran Fondo è l'unica medaglia nel nuoto dell'Italia, l'Italia nel nuoto ha conseguito solo la medaglia di bronzo. E' Roberto Cammarelli che ha la terza Olimpiadi, pugilato di fare tre Olimpiadi, penso che sia qualcosa di esagerato, incredibile, che meritava la medaglia d'oro, che ha preso comunque l'argento, ha già vinto l'oro a Pechino, è stato due volte campione del mondo a Chicago e a Milano. Quindi insomma, dei campioni di primissimo livello, di cui noi siamo orgogliosi veramente. Bene, anche perché sono sport tra virgolette minori e quindi è importante avere dei grandi campioni che facciano da traino per tutto lo sport, in particolare per questi sport tra virgolette poveri. Certo, sono sport che hanno bisogno dei gruppi sportivi dello Stato, hanno bisogno quindi anche della Polizia di Stato. Grazie a noi e grazie anche agli altri gruppi sportivi, militari e statali, si riesce a dare un contributo elevato allo sport nazionale. Tranne gli sport di squadra, tutte le medaglie di Londra sono di gruppi sportivi statali, per cui noi abbiamo contribuito intorno al 25% delle medaglie dell'Italia. Quindi sicuramente siamo un aspetto fondamentale dello sport italiano, in questi sport, più che dire minori, in questi sport olimpici chiamiamoli, cioè che salgono agli luni della cronaca nel momento dell'Olimpiade. Benissimo, la ringraziamo. Ringrazio a voi per questa possibilità, grazie. Ringrazio a voi per questa possibilità, grazie.